Carlotta ASMR Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero stiate bene tra un po' l'inquadratura cambierà, sarà un po' più close up ho iniziato da lontano semplicemente per una piccola intro per mostrare la mia adorabile maglietta di pampling e ricordarvi che il codice sconto affiliazione è sempre valido se vi piace è tenerissima, ovviamente ce ne sono anche altre tutte le info giù detto questo mi piacerebbe passare direttamente al video senza dire altro vi rivelerò qualcosa che mi riguarda da vicino andando a rispondere ad 8 domande non 9 scusate, guardo qui perché c'è il mio cellulare quindi appunto si tratta di un video tag e sarò accompagnata per tutta la durata del video dal mitico gelatino squishy sono stata taggata da Marco che ringrazio e sto ancora riflettendo sul chitagare vi scriverò qui i nomi di chitago e giù nel mio canale ovviamente che nessuno si senta obbligato e che tutti voi vi sentiate liberi di fare il tag come se fossero taggati da me direi che possiamo iniziare subito con la prima domanda che è qual è il tuo punto forte allora ovviamente non ho preparato le risposte il mio punto forte penso sia la tenacia sono una persona mi ritengo una persona tendenzialmente tenace se mi interessa davvero raggiungere un obiettivo questo però non significa che nel caso in cui non raggiunga dall'obiettivo la cosa crei un problema esistenziale sono anche molto adattabile per fortuna quindi penso che il mio punto forte sia questo la tenacia è la prima cosa che mi viene in mente scrivetemi anche se anche voi siete tenaci o se invece siete un po' più se lasciate passare le cose un po' se vi lasciate sfuggire un po' le cose domanda numero due ci sono dei momenti in cui cambieresti parte del tuo passato questa è una domanda davvero difficile nel caso in cui si debba rispondere proprio sinceramente sinceramente sapendo di sapendo che sono diventata la persona che sono con i suoi pregi e i suoi difetti e che mi accetto nonostante i miei difetti oggi direi che non cambierei niente del mio passato perché sono arrivata a qui fino a qui accettandomi quindi grazie a tutte le cose che sono successe nella mia vita sono arrivata a questa consapevolezza e all'accettazione di me ma d'altra parte riflettendo certamente ci sono delle cose che con appunto questa consapevolezza essendo cresciuta farei diversamente nel passato quindi diciamo è un sì è un no più sì che numero cambierete le cose soprattutto le cose che ritengo sbagliate per me o che io ho un po' sovrefatto verso gli altri ditemi anche se voi cambiereste qualcosa del vostro passato o se siete a posto così domanda numero 3 sei mai stata o stato messa messo alla prova da qualcuno parlando di pazienza cioè suppongo se qualcuno mi abbia fatto spazientire la interpreto così questa domanda la risposta è ovviamente sì nel caso in cui io abbia capito mal la domanda mi scuso ovviamente sì diverse persone hanno come dire attentato hanno cercato di hanno messo alla prova la mia pazienza penso sia successo a tutti domanda numero 4 direbo di una persona paziente ricollegandomi alla tenacia sono paziente per le cose che voglio davvero ma allo stesso tempo sono impaziente perché vorrei ottenerle in fretta ma penso succede a tutti succede a tutti diciamo che sono più impaziente che paziente nonostante io non sia completamente impaziente in generale ok spero di essermi spiegata chi di voi invece è paziente per lo più e quanto mi invidio aggiungo però dai so anche pazientare per le cose che voglio insomma domanda 5 quando hai momenti di malinconia cosa fai per sentirti meglio allora sento spesso rispondere a domande simili a questa con ascolto canzoni ancora più tristi ascolto canzoni malinconiche sento spesso questo genere di risposta io invece proprio no io se sono malinconica faccio di tutto di tutto per non pensare alla cosa in questione di tutto mi è capitato a volte di cadere della della malinconia mentre guardavo delle vecchie foto ma malinconia anche rispetto a sensazioni o a danni passati quindi io cerco in tutti i modi di non cedere alla malinconia perché insomma a volte non è la nostalgia la malinconia non sono delle emozioni dei sentimenti piacevoli a volte quindi cerco di evitare ecco di restare in quel loop sempre fatemi sapere anche voi invece se siete dei se amate la malinconia quindi se amate tuffarvi in canzoni o film strappalacrime in momenti di malinconia domanda se nel passare del tempo pensi di essere cambiata cambiato se la risposta è sì in cosa sono cambiatissima a tal proposito se vi interessa qui sotto vi lascio un video in cui vi parlo del mio cambiamento caratteriare ma c'è una parte del mio cambiamento perché insomma non sto più a rompervi ed annoiarvi con cavoli miei il mio carattere e le mie pensieri sul mio carattere però si sono cambiata tantissimo in che cosa è in tantissimo non non avrei tempo in un solo video tank in una sola giornata per parlarvi di me né mi interessa a bordo sono cambiata principalmente nella come ho detto prima consapevolezza dei miei limiti e delle mie capacità questo mi ha permesso di avere stima di me per ciò che valgo senza sopravvalutarmi quindi cercando al massimo di apprezzarmi per ciò che valgo appunto senza credermi chissà chi questo non fa proprio parte di me sentirmi chissà chi ho smesso quindi di sentirmi inferiore agli altri come mi sentivo e molta responsabilità ce l'aveva chi stava intorno a me però e non sto parlando esclusivamente di amici eccetera sto parlando anche di persone più lontane che mi influenzavano però sono ecco quindi in questo sono cambiata però sono cresciuta anche quindi una parte di questo cambiamento è dovuta anche alla crescita ovviamente perché penso che tutti nella vita cambiamo secondo me è impossibile essere un adolescente identico al futuro adulto che si sarà non so se mi sono espressa bene è impossibile chi non cambia dai tutti siamo cambiati in qualcosa magari anche inconsapevolmente inconsciamente immagino anche voi fatemi sapere in cosa siete cambiati in cosa siete cambiati di più o in cosa vorreste cambiare domanda 7 chi è la persona con cui ti senti più in linea caratterialmente oddio questa è difficile allora per assurdo mi sento molto in linea caratterialmente con qualcuno che non frequento più e questo qualcuno questa persona nel momento in cui la frequentavo non mi somigliava per niente invece sono io che sono cambiata poi però devo dire che mi sento molto vicina caratterialmente per tanti aspetti ai miei genitori nonostante purtroppo divendo molto lontana io non possa ovviamente ho rapporto strettissimo con i miei giornalmente li sento ci parliamo ci diciamo tutto però non li vedo ecco live diciamo così nonostante questo io mi ritrovo in tantissimi aspetti del mio carattere sia positivi che negativi e ovviamente sono i miei genitori sia mia madre che mio padre e tra di loro loro sono non si somigliano per niente direi che sono quasi agli antipodi sono proprio due opposti però mi ritrovo caratterialmente in tutti e due quindi forse loro penultima domanda numero 8 se potessi parlare alla te del passato cosa consiglieresti per affrontare il futuro tornando alla domanda numero 4 tanta pazienza figlia mia questo questo le consiglierei tanta pazienza che le cose andranno bene proprio così glielo direi tanta pazienza che le cose andranno bene basta e dire solo questo poi domanda numero 9 se ti va tag qualcuno ed esprimi un giudizio positivo o negativo su questo tag appunto i tag ve li ho detti in teoria all'inizio ve li ho scritti però voglio rifletterci vedere chi non ha fatto il tag eccetera intanto ho dovuto trovare uno spazio per registrare allora questo tag mi sembra carino ora non ricordo il titolo preciso del tag che è stato dato a questo tag però vi ho scritto giù sia chi l'ha creato ovviamente sia il titolo ho trovato un tag carino molto incentrato comunque appunto sul carattere sia che a fare col carattere il titolo quindi è carino ed è utile per conoscersi meglio quindi per conoscere meglio chi lo fa e per essere conosciuti meglio da chi ci ascolta approvato altrimenti non penso l'avrei fatto se non mi piacesse non sono solita rispondere a tag che non mi piacciono molto forse posso sembrare un pochino acidella ma non è per questo assolutamente perché amo fare ciò che mi piace fare detto questo vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vorrei cominciare a fare una cosa che probabilmente ho già iniziato a fare cioè mettere nelle info nella descrizione del video una parola lo fanno in tante ormai una parola chiave da inserire nei commenti chissà se già ho cominciato a fare questa cosa si vedrà quindi andate a spirciare sotto questo video sicuramente ci sarà una parola chiave un bacione a tutti mi raccomando rispondetemi anche voi alle domande in caso non vi siete addormentati e alla prossima ciao un bacione un bacione un bacione Grazie a tutti